Dimenticate il locale dove non potete entrare. Dimenticate le star che non potete conoscere e le feste alle quali non potete partecipare. Per questo evento unico, gli ospiti speciali siete voi. Discovery Channel vi invita a scoprire le scene inedite della serie che ha reso Jeremy Wade il biologo pescatore più famoso del mondo. In esclusiva assoluta, River Monsters, i segreti di Jeremy, la nuova serie, dal 7 gennaio alle 23, su Discovery Channel. Grazie a tutti.